Ok, caricamento in corso, perfetto. Ok, ragazzi, buonasera, benvenuti e bentornati a tutti. Sono Maui e stasera andiamo avanti in Half-Life, capitolo 6, corsa agli armamenti. Non sono andato avanti per nulla, perché giustamente lo facciamo insieme e quindi vediamo che succede. Buonasera a tutti e due, ciao Battle. Meglio pochino voglio, no? Che dici? Ok, perfetto. E infatti, infatti, c'eravamo rimasti che... non c'è una mazza di vita. Ah! Ed ero appena sceso da lì. Ok. Perfetto. Geobriefing. Ok. Sì, che sono messo veramente male. Molto, molto male. Molto, molto male. Allora vediamo... Questo, che ha fatto? Allora... Ecco, ci sono già soldati, però lì c'è, come di fare le armi. Ok, andiamo a dare un'occhiata... Questa è una favore cosa di carina. Eh! Allora, ce n'è uno qui... Questa è un po' complicata. Vediamo se riusciamo a inventarcela. Vediamo se riusciamo a inventarcela in qualche modo. Potrebbe essere un'idea? No. Non è un'altra cosa. Eh! Un'altra cosa. No. Vediamo se cambia qualcosa. Eccolo qui. Ah, sta? Molto figlio. Molto figlio. Che modifichiamo? Vediamo questo che succede. Mmm. Mmm. L'ho 38. Puntatore. Ah, è come l'altro. Non è che mi piaccia tanto, però. Laser. Non saprei, battro, che aggiungiamo. Ma, pistola cosa avevamo di interessante? Più colpi. Mmm. Non mi dispiace nemmeno questo. Ah, sì, dai. Ok. Oddio. Ah, bella domanda davvero. Non è che ci sia molto da sviluppare. oh wow check it out my gun just keeps getting better and better you know russ technically i don't think there's a whole lot of your gun left anymore perfetti i'll tell you what let's put that idea on hold for now we can chat about my gun when you get back ok io me la tengo ok io devo avere un po di colpi in più ho aggiunto il modulo qui ok adesso vediamo quanto siamo incasinati non avendo vita vieni qua mi spasso attraverso basta un po scattoso stasera vediamo se si 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 sistema da solo siamo finiti qua devo passare la sotto mi serve vita tanta vita ah dai si scende si scende ah c'è c'è anche lui penso che appunto vada giù da qua dove andiamo no eh se ricordo non sei capace poi c'è questo qua in effetti da accendere forse si torniamo no dai mi sono già bloccato mi sono già bloccato sul serio torna su qui 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 ma dai sul serio ok sono già morto non la recuperiamo la vita in effetti non è che possa fare i salti mortali però se li facesse no buono basta recuperiamo la vita ciao che bello inizio alex ah no il caricamento vuol dire che mi ridà il misero di vita di prima non ha fatto neanche il checkpoint però poteva arrampicarsi su una ringhiera dai non sono finito ah sono qua vabbè l'arma è modificata ok la vita è la mano ok dobbiamo attaccare quel co più senti lì un po' spasso no quindi si è risposto di sì mi sarei aspettato di sì battle ai consigli no di qua non posso andare primo parco del gioco ah sì davvero non può arrampicarsi in su vabbè come muoio un'altra volta da qua perché non so dove devo andare e mi infilo a cavalcione da qualche parte ah no forse questo è giusto ah sì perfetto non c'è niente interessante ma è stato perduto l'aria prima certo beh è ancora è venuto grazie certo grazie ok inoltre ci siamo che è lagata ah beh potrebbe essere venuto beh qui c'è qualcosa per me c'è qualcosa per me qui dietro carcatore ok adesso fa niente perfetto quella è rotta ed usciamo di bella la vita qui tu che ci fai qui? mi ha spaventato tu hai la vita per me tu adesso non capito se ho finito col piano ci sono le ate aggiuntive bello così si lei è un cuore piuttosto can tost dicono ma dove stiamo andando? si riesce di qua Ah, diamo un'occhiata. Ah, ecco. Appunto. Ok, quindi da questa. Da quella. Di qua per forza. Sì, appunto, torno indietro. In effetti ero passato dall'altra. Vabbè, vediamo cosa c'è di qua. Yeah. D'accordo. D'accordo. C'è l'occhiata qui? Ah, ce la stanno facendo? Molto bene Ok, questa è la sua visione Ah, ok, non si scende da qua E si torna giù Ok, penso che non serve un momento Comunque voglio vedere anche se aveva l'elevatore Comunque di qua non si passi Ok Ma... Ok, tra l'altro Ok Siamo tornati qui Va benissimo La torniamo dietro al solito apposta L'altra parte Ah, dai, passati tu Non c'ho voglia io Non ci sa mai Ah, ma vedo che adesso non ci passa perché adesso è più basso, no? Ma che ca... Alex? Che cosa fai? Alex? E dai Ok Si è buttato nelle vuote da sola Eh beh, dai Ok Dove siamo rimasti? Sempre qui Va bene Qui si torna da lì Vai proviamo Che non ho visto molto Qui si torna da lì Dopo si è un punto a capo Non torna più su Ok Per andare Devo andare dai tubi Devo tornarsi in cima Su, 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 su Ma perché? Ah, prima che cazzo No Allora, va mandati su di qua Non c'è nient'altro Ok Beh, tutto addosso I kifu Ok Ok Qui ci sono state due lì non si entra Qui non si passa Allora di là Niente, ci sono esterni Un punto e basta Ok Ora suppongo Oh, Alex! Are you seeing that? Mmhm The Vortogons are taking down the fabrication Yes It might work Shhh Deploying technician teams to block Four nine Six four Seven seven Maintain priority Perché sono sprofondato? Ok C'è lo mio che si abbassa Un po' da solo Alex Cosa fai? Ah, però che ha appena fatto un aggiornamento piccolino Di sistemazione Un po' da solo Un po' da solo Sì Un peterino qui non serve Qui non c'è niente Un altro di qui I nostri amici Ma Questo non ci serve No Questa non ci serve No, vengo rồi Può restare lì da solo Un mitragliatto che ho sentito ma dai stava sparando lui beh ho anche detto sta sparando lui non becca a me no c'ha c'ha la canna c'è la canna banana ha fatto due colpi in su in su ecco il bello e il brutto delle dirette quando non conosci i giochi appunto è proprio tutto realistico dove siamo rimasti qui dimmi che è su ok ritiamo anche calma ci arriviamo anche noi c'è Marta beh l'ha scoppiato in là spero di si la si scende la si scende la vita che non ne abbiamo ho fatto un colpo ma ho fatto fuori ehi giù di qua ok ok questo esplode mi ha fatto bene a farlo fuori prima non c'è niente per noi qua su nemmeno adesso mi sa che qui c'è un po' di conoscenze una buona non mi hai nemmeno visto finisci colpini tanto no vieni fuori oh mio che non è starma qua più o meno là sopra vieni fuori ok 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 si può passare di qua può prendere un'occhiata qui niente 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 ti rompi con bottiglie plastica si rompe beh questa è di vetro ok ci potrebbe stare ma bottiglie plastica si rompono le finestre ok si sono chiusi si 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 ok 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 infatti no beh però si va lì ciao ok 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 C'è più o meno. Ok. Sto attento a leggere perché non lo vedevo questo. Mi fermo anche un altro per potervi far leggere un po' anche a voi, altrimenti è un po' dura. Di traverso ci può essere anche. La proviamo? Ma sì che la proviamo. Ops, non è anche da breve. Beh. Prima volta è stato preso anche da queste cose schifose. Beh. No. Allora. E me cosa? Ma. Non va più? Ah, non va più. Perché? Guarda. Oh, è rotto Russell. Cambiamolo. Ma dai. Adesso ci riproviamo. Adesso ci faccio così. Eh, che lagate. Stasera non hai voglia di giocare. Guarda. 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 È rotto. Madonna. Parti? No. Non si sa mai, magari. No. Basta. Ok, c'è che non c'è. Diciamo che si va di qua. Eh, che strage. Che è successo? Mi sono perso la festa. Ma sì. Chissà che festino anche. Ma sì. Chissà che festino anche. Chi è stato? Ho sentito. Mio. No. Quello là. Voglio quello là. Sì. Ma no. Una scottoletta di tonno. La tecnologia. La tecnologia ti snobba. Si. Battle mi prende per il culo. Perché l'altra volta abbiamo avuto problemi con la diretta. Ah, ecco dove è la festa. E adesso questa volta Battle mi prende il gioco. Perché nel gioco mi snobba. In effetti c'è ragione Battle. Tu cadisci. Ah, ecco. Dai, salta qui addosso. Dai, dai, dai. Mi salta di fatto. Buuuu. Questo non l'ho mai ancora visto. Eh, è rimasto... Che cam... Eh, che mi lancio addosso. Ti lancio uno dei tuoi. Che bella è sta arma. Ecco qui si trovano... Tro... Tro... Pochi colpi. Allora, dicevamo che... Lì ce n'è una per me. Lo volevi tu, eh. Ti vedo lì. Posso scendere o andare in su. Ok. Allora, devo mettere il culo nelle pedate. No! Ma fermo! L'embriaco. Sì, qua fin fine non c'è nulla. Oh no! Oh no! Stop! Basta! Basta! Cucu! No, qui non c'è nessuno. Sì, sono sceso per... Niente. Ok. Nulla. No, questi sono proprio tutti. Aia! Come last three? Qui entra la traccia? Ah boh. Ah, siamo scarsi. Ah, questo mi piace. Ah, perché sto facendo un giro intorno? Di là no. No. Ah, poi l'ho passato di là. Ok, mangiati questa. La mia volta è sempre uno scicchifo. Ah. Usa io il martello. Ah! Potete entra. cappellina ed ecco cosa che per il lucido il fatto di fare in c'è una di qua e una di là una è chiusa, una è aperta mi sembra che qua è chiusa, quindi guardate prima qua mi piace pure chiuse ma dai devi fare eccessi dai bucchi, dai tubi ecco, ho incastato vabbè non mi metterò mai più dentro uno di questi tutto questo casino poi una rarissima resina e una scatola magica segreta vieni colpi no eh aspetta aspetta ma perchè devi fare il satellite eeee sei mia si, presa oh, era lì ma sento dei rumori veramente inquietanti ma si tanto non facciamoci notare spariamo tutto anche lui che di qualsiasi cosa troviamo no? no? ok ok ah si l'esempio di questa va allora dicevamo che dobbiamo andare su c'è una scala c'è una scala salda su bravissimo poi eh facciamo le scorciatoie ok ok te pareva che si bloccava lì no? e che la prendiamo subito veloci 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 tu in di camera non è ma dai la seconda volta eh ma dai non do usare più i tasti rapidi no non è vero non è vero ti stiro un muro inquietanti qua ok si spiegata la magica bella poi sono destro sono destro devo stare qui visione negativo continui a compagni che abbiamo compagni guardate che non ci sente nessuno se mi chiude qui no qui adesso ne è solo uno e dai se è solo uno le teste sono fatte bene il merino no il merino strippa un po non riesco ma dai che non mi hai mai visto comunque sono blu finito? era madonna questo dove è arrivata? ah ecco mancava lui no? ah bene mamma mia che schifo di mira un'arma pessima un'arma che è capito che ho di uuuh data iluso dove sei? no salta la granata guarda queste granate sempre esagerati ora non e ti 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 Sì, ecco, finché. Sfai una pistola così sfigata. Alex! Ah, c'est un retard! Non mais frégué! Si, il l'a fait! Ok! 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 Oh! 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 Che c'è qui tutto solo? Eccolo! Vi ho arrivato! Eccolo! No dai! Ok! Arrivo! Andiamo in bagno! Per fare da su! Questo c'è? Ok! Questo è bene! Capite che è meglio! E la madonna! Si appunto! No! Ce l'ho un'altra! No dai! No dai! E poi? Vedete queste granate! Vedete queste granate? Mamma mia! Adesso! Che c'è! Hey! La madonna! E' esplose qualcosa in faccia! Ma quanti sono? Seconda volta eh. Adesso andiamo addosso proprio alla Rambo. Usa di granate. Eh lo so a Battle. Sì ne ho due in effetti. Potrei farlo sfruttare un po' meglio. Adesso la proviamo. Allora dai, rapidi 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 rapidi. Ecco, ti pareva, rapidi rapidi. Allora, stanno qui così non saltano su, non vengono, no? Cosa vuoi? Ok. 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 Ok нет. Voleh Fatto, semplice Grazie Battle, ogni tanto ci si perde quando sei in mezzo al casino Ti perdevi le sciocchezze E ci vuoi fare Quando possiamo vederci finita stasera lo faccio provare perchè merita E intanto ti trovi sotto pressione E' bellino, è bellino L'altro si apriva, questo no Vediamo le nostre cose Mi hai capito che bisogna farli Farli fuori in fretta Altrimenti chiamano Oh no Questo per me Ce lo chiamano i rinforzi Qui c'è un altro Ah si Ok Oh 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 Hey Come è amico ti riposi Aspetta, aspetta che vediamo se funziona Più o meno Metti giù i piedi Metti giù i piedi Metti giù i piedi Metti giù sti piedi Ah, non si chiude nemmeno No, l'hanno fatto fisso, peccato Ma lì c'è che ho visto qualcosa per me Grazie Che mi laghi stasera Hm, dai, rangiati Intanto sono utili Ah, perché ci sono cose schifose che ci ho nel YouTube Vabbè E tu, come è là? Non, è mega schifo Dai, dai Ma, mi ha indovinato Dove stiamo andando non lo so Ma sono dettagli La strada è questa Abbiamo questo po' che lo so Speriamo così Ok Non mi laggare Adesso Siamo stati bravissimi Stasera non ho voglia Ok No, dai, che flasciate Allora Non è chiuso Vabbè, aspetta, passate qua E' stato aperto Se c'è qualcosa qui per noi Guardate, mi sento osservato a tutti i lati Chi lo spiora? Sti stalker Mi ha fatto prima, vabbè Tanto non c'è sentito nessuno Da qui è alto, però Infatti qui è alto Da qui è alto Alto E c'è la scala lì Ok, coperla Ah, bene Ok Non so nemmeno se devo scendere Sinceramente Tutte porte chiuse Qui si hanno appena passati Ehi, Battle Dammi un parere Un consiglio Da dove cavolo si passa Da dove cavolo si passa Ah, queste non le prende Ma dai Ok 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 Qui non funziona il gioco Facciamo saltare tutto in aria Comunque del tipo di qua Non c'è niente Allora ce la passiamo da qui Che ho visto quella Piano, piano Mia Grazie Vita siamo a posto Allora c'è una teresina Se la vogliamo dobbiamo passare Ok Ok E ora c'è un problema Dove è l'altra di qua? Almeno una Ma se ti trovi Allora c'è un'altra di qua Allora c'è un'altra di qua Ce l'è qui Ce l'è qui Gli amici, gli affezionati qui non mancano mai Il cappello ce l'ho Il cappello ce l'ha? Sì C'è Ho poche Ho troppe insomma Allora Perché siete tutti lì? Vedete che c'è qualcosa di interessante lì? C'è qualcosa di interessante lì? Non uscirà mai dritta no? Vai a quanto pareva Mia Schiva, schiva Ok Ok Se questo è il petto che vi sono in trailer Qui c'è da divertirsi Vediamo come ci acabiamo noi Ecco Ecco, ci sono già Massi che l'ho mai neanche visto Mi sentito, dai No, dammi Questo che mi serve Dai E muori No, dammi 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 Guardare Guardare in ogni angolino Sto gioco Davvero Ecco Visto Ok Ok Come si fa sto giochino No, dammi No, dammi No, dammi No, dammi Mi sa che è solo per belletta questa Non fa niente Si, dai che fa qualcosa no si esatto, alzerà ben questo no? guarda lì ho aperto la porta prima si, no dimenticato appunto, sciocchino andiamo a dare un'occhiata lì dai si, il cammino è veramente lento su 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 ok direi che ne ho 28 però qualcosa possiamo fare si può fare un po' in mezza le scatole si può fare un po' in mezza le scatole la molto bene ahah giusto bene ok 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 trovi ok like oh ecc ok 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 Andiamo alla distilleria e vedo dove ti prende. Con il mio drone in linea, abbiamo finalmente avuto il aclaro! Non mi parla! Ok. Oh, pfff... Madonna! No buono, no buono che sia così in un'angolino con questo No buono, no buono, no buono, no buono, no buono Cosa mia Ciuccatelo la scurma Che cavolo mi hai fatto Muori? Ah boom Sì, mi dissoci Eh no è nato Scemo Ok, dicevamo che Il cavo arancione serve a qualcosa? Ah sì, direi di sì Direi proprio di sì Oh Dio Ma sono serio? Eh la madonna Adesso Adesso Scemo building Vieni fuori Non ci credo Ma dai Sì infatti mi mancava la corrente Solo che mi hanno ucciso sul bibello Mentre lo sparò mi ha sparato Ok Ah ok ci ha rimandato qui Eh sì No no Siamo al punto di riattivare la corrente Non torniamo Perché c'è giù? Un po' di roba Esatto Ok per fatto non ce l'ho Spera che prendiamo l'occhiata qua Perché sennò arrivano alcuni altri Che c'è qui dentro? L'ho preso male Ecco infatti l'ho preso male Dai Vieni qua No Ah beh Sì Non mi dispiace però Non è tanto di tenere così Qualcosa in più Ah c'è un inferiore che è andato in quello Ci vuole adesso Vai 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 Su Adesso funziona Non è bene Allora Noi la passare lanciare oh boom baby questo ha fatto molto male non mi è piaciuto fare niente e allora basta in quei giocatolini sei qui sotto? questo non si può cambiare? tre colpi piuttosto ok grazie non è niente per me ho già preso allora tanto l'amico qua è uno scott mi dispiace cucciolino sei quasi simpatico ah bravo battle guardate mi perdo via dove metto le cose c'è la cura nel posto sinistra bravissimo non è andata così dai ok quindi poi suppongo che si va di là qui si potrebbe andare su ma non so no sono passati su loro noi no allora usiamo l'ascensore qui dovrebbe funzionare no ho tirato il corrente per cosa? no qui c'è un'altra no qui c'è un'altra sarà da collegare facciamo il giro e quanti ne abbiamo? 28 semplice in effetti ecco ecco questo va qui uno va giù uno va su ok questo è per logica dove vai? dove vai? dove vai? dove vai? no questa non l'ho capita va fallo da fuori si apre questo aha ok già fatto bene si a me se non si cambia qualcosa no ah c'è anche Gigi ciao Gigi com'è? sto entrando un po' matto qui a vedete come si attiva la questo cavolo di ascensore allora batto il duke se non si può il lerone perché sappiamo che ho attivato questo perché questo è attivato questo verde va di là mezz'ora che vado avanti e indietro vediamo il cavo verde dove va qua ecco va di qua va di là e torna su dai non fa meno di là di nuovo ok 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 scusa ti sposti ti sposti grazie ah cosa fai? cosa fate voi? mi mordete? uhuh guarda qui ahia questa e questa volete una birra? no ehi si ma apri tappo no e voi mi mordete? va bene lì sembra di sì di qua ti perde il visuale di qua di qua di su metri dappertutto di là ma eccolo qui no ah adesso funziona ok scherzi a parte bisogna portarlo su che dopo devo saltare quindi la vita di mezzo allora sali ok le stendi lo fai in stato del genere? o su ci sono i comandi? nessuno non li ho visti beh proviamo e no ha visto il batto che col power non andava? visto la salita rapida bisogna proprio fare l'ultimo collegamento di qua c'è qualcosa? no mi salto ecco la olè lunga strada ok caricamento vediamo vediamo questo petto qui dove arriviamo che dobbiamo riuscire ad arrivare sulla stazione volante insomma no? però no adesso stiamo cercando l'arma adesso stiamo cercando l'arma e dopo dovremo andare sulla stazione centrale che è quella volante è che voi purtroppo non la vedete io qui ho il caricamento con tutta la mappa gigante e tutti i percorsi tipo a edifici un po' stilizzati dove dove passi nel gioco insomma no? ma il caricamento è in corso stasera un po' rallenti vai su che ce la fai? dai che ce la fai? ci siamo quasi ci siamo quasi eccolo tac e ci risiamo molto bene vodka c'è sicuramente un po' di modelle in qui c'è l'alcolino sale e solo migliora tutto bene russle stai copriati la vodka è bene la vodka è buona avremmo la vodka avremmo la vodka guardami un l'apple oops di queste cosa sono adesso Voi volete un po' di... Ah, le boccucce di prima, quei fiorellini in bocca Voi volete un po' di vodka Tieni un po' di vodka Magari è piaciuta però, l'hai visto? Ehm... Ok Che fioppate a avere schifezza dappertutto Questo sarebbe stato un cancello Ok, va bene anche così Mi mordete? Dita voi, che fate? Dov'è? Incazzate! Vieni, vi lascio stare Passi di qua No, no Oh, ma è pieno Perché non c'eravate? Ehm, se posso io passo Non moradetemi le chiappe Fermi lì Ah, ok Qui è un po' tutto velenoso, mi sa Che chifo Ehm, se anche questo ha passato tempi migliori Ehm... Allora, mascherine qui per me non ce ne sono Qui non si passa Qui non si passa Ehm, questa di qua Ehm, tapiamo la bocca Ahia No, è perché c'ho la chat davanti qua Batole dice non rompere la vodka se non la racchetta si offende Ehm, è qui Adesso vediamo che c'ho la chat che mi chiude un occhio Abbiamo un naso a bocca Naso a bocca T'ho detto io che era velenoso, è ovvio Ecco, adesso abbiamo qua il nostro amico C'ho caschetto Cioppati sto casco Ah Tu non potevi mancare, no? Ok Eh sì, anche lo prendo quello Ah, poi c'è anche la scatola Ci pongo Ok Boh Ok Io non ti conoscevo C'è qualcosa di bello qua? Vodka? Ti sei obbriaccato fino alla morte a te? Guarda, guarda, guarda quanti sciottini che ti sei fatto Oh Ehi Un goccio Un goccio anche per me Potevi lasciarmelo però, eh Vuoi questo? Guarda, guarda Da Guarda qui, va l'abbrincone Aspetta che perdo la visuale Ok Qui non c'è nulla per me La corrente funziona Questa? Ah, per le radiazioni Per la cassa Ah, però Non l'avevo vista Un caricatore Un caricatore Spesso che in questo gioco qua Se finisci i polpi sei morto Alex, come in Alex Alex Oh, there you are, there you are There's no straight shot to the vault I'm gonna head inside And find a way out Mmm, dicono Eh, sape, è stato bello uscire al sole Oh, come? Chi sta spara-parlando? Piccia Dove sei l'assù? Guarda che arrivo! Cappellino azzurro stavolta, non lo ha giallo! Non ci passo, non ci passo! Dai, fai su rapida! Giramento! Sai che è sceso, torna su! Devo aiutarti? Dici? No? Dai, fai bene! Grazie! E' questo! Oh, è Jeff! Jeff? Oh, non ti preoccupi, non puoi vedere! Qui è giustificato, no? Ho iniziato, come Mozart! Chi? Tu? Allora... No, lascio aiutarti! Vedici dall'altra parte, Greenhorn! E... ... 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 Ah Aggressivo Dovrei essere di contesto Vabbè via oh Ci abbiamo ancora qua però Via 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 da Jeff Jeff hai rotto le palle Via Ti credo una cassa di bottiglie Oh cazzo Ti butti di sotto? Oh merda Mi lancio di tutto Dai non rompete le palle eh Via Statemi distanti Dai via Oddio No fa casino Jeff mi metti un'ansia tu Cazzo gli stalker Non si è andato dall'altra Jeff Io lo faccio pari in colpo se a me non fai niente Che Jeff Ah ok Ho visto là Il mostro ha consumato meno vodka della Rachele Strano Grazie a tutti Rachele ti ringrazio Battle Ehi com'è compare sei stanco Tranquillo soldato Riposati Ehi che bel pezzo di manzo Che è sta cosa Alex Comin' in Hey Alex Oh there you are Can you hear me? More or less You're breaking up I think you're still in the distillery I made a friend named Jeff Wow that's great We can take all the help we can get Yeah We're not really close Listen there should be a big tunnel sized plug in the floor there somewhere That's gonna be The tunnel out of here? Correct You get it open I'll figure out where it leads Insomma ce n'era un po' di Granchio Gambretto Crustace C'è questa Da mangiare un qualcosa Intanto No Basta potete che si rompa L'ho fatto la nausea Ah ok Ok Auguri e anguria Si può andare giù di qua Giù di là Buoh intanto è giù di qua C'è bovremo Jeff intorno tutto il tempo Già mai no? C'è ancora qui Ecco sentilo Ah dove è? Eh? Ciao Jeff Dove sei? Come posso uccidere di là? Eh? Ah ok Ok Io ho già capito che in sto livello qui Paticamente Mi hanno detto fuori Meno strano Queste non ci servono Perché ci sono Le bottiglie di vodka Siamo pieni E i bottiglie di vodka Sono più Importanti Ok Eccolo lì Eccolo qui C'è un problema C'è un problema tecnico Che è questo E allora dopo non gira Ah Grazie c'è questo in mezzo Ci butta mossa ma Diamo un'occhiata intanto qui Ok Eccolo qui Che c'è ne? Sembra di essere un lato Ah No Ma Ancora benito che non ci servono Mi sa che si mi prende quello Eccone uno Non so più dove metterlo F sta lì buono un secondo Mi ha studiato la vodka Ma non da questa No Mi sono comunque strato Dove vai? Ok Abbiamo trovato uno Ok Abbiamo trovato uno Ok E' fatto un giro Ma perché? Madonna Madonna Che cosa faccio a togliere? Non puoi girare con questo ferro Che cosa faccio a togliere? Assurdo 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 Non ci sta Non ci sta Ragazzi adesso come lo giro Ah No Non lo so Allora posso far venire alzarlo solo un pochino in effetti E se arriva Jeff Ho capito almeno ho capito Jeff Diretto Diretto Siamo a 2 Siamo a 3 Amico Jeff dov'è? Da che parte passa? Perché non lo butto in mano? Ma dai Ok piccolo Jeff Adesso facciamo un gioco Dov'è un attimo lì Grazie a tutti No Jeff, fammi picciare, mi hanno dato un'uffo delle palle una dove mi hai mandato l'altra dove me l'hai calciata ma dai oddio jeff è stressata l'anima ah sta va hai fatto girare ma non sono anche rotta vabbè vabbè hm non ho idea dai la calciata adesso ma si può c'è lì manca una qui c'è ci si c'è come fate recuperate tutte tra è andata anche questa è tutta la terra in un colpo al mio boom and there we go oh yes security ok 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 Ok, non ho capito se è andata bene o no Mascherina, mascherina, mascherina Siamo finiti qui Questo potrebbe essere un bel nascondere il pezzo di Jeff E quindi c'è da tirare la leva, no? E' il pulsante Va, Jeff E' boom Ok Ciao Jeff Oh my god, Jeff, sei ok? Ok E quindi se sta bene, molto bene, mi ha spiaccicato Jeff Basta, non ci ha bottiglia in giro, mi sono anche stufato Ok 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 Ok, il poster è chiaro È tempo di ottenere la porta aperta perciò che possiamo passare a questi tunnel Questo cosa faccio? Ah, perché c'è Jeff? Ah, non c'è qui C'è stato spaccato su tutto Jeff Ok 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 Sì Ok 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 Cosa è? Credo che il tunnel è pieno di antlions. Solo per se che io lo scopo permanentemente. Antlions, antlions, antlions... Sì, sai, alieni con le piedi stabbi. Oh sì, e molto piccoli, come antli. Non. Come piccoli, piccoli, piccoli. Non, non sono loro. Questi sono abbastanza pericolosi. Certo, eh, qualunque loro sono, sono sotto il tunnel. Sì, andiamo. Sì, piccole formiche. Vabbè. Contento lui. Ecco, chiusi dentro. Voglio uscire. Sì, piccole formiche non senti. Voglio già uscire da qui. Ok. Caricamento. Non so che punto siamo. Ma immagino... Battle. Per Akele, adesso per ricordarlo, dovrei bere vodka. Non gli piace, ha detto Battle. Che ci vuoi fare? Se non gli piace. Bene, bene, bene. Mi sa che qui parte un altro capitolo. Quindi direi che per stasera è tutto. Grazie alla compagnia. Grazie subito a Battle. Magico. Tra la sua compagnia e i suoi commenti. Ci sta sempre. Grazie a tutti per la visione. Se vi è piaciuto lasciate un like. E per i nuovi aggiornamenti iscrivetevi al canale. E non mancate. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, buona serata.